ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come prima cosa iscrivetevi in tanti come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo un liquido che già un po è uscito si chiama crack pai ultima bacia di questo liquido poi non se ne vedrà più una torta con la base creca e dolce caramello e zucchero a vera andiamo a fare la prova di questo liquidozzo vai gabrie che col tsunami kit e io con la merona vai tanto ti ricorda ti inizio un po ricordare l'inverno e anche un po il dunks come liquido sono buoni questi liquidi qua perché ti avvolgono la bocca c'hanno un sapore a tono cioè si sente benissimo il cracker si sente tutto il cracker il caramello e anche lo zucchero a vera è bello dolce buonissimo voto 10 per questi migliori peccato che sono le ultime bocce però sono america allora ricordiamo svapo caffè marina di carale moriciare la spezia è andata a trovare nuovi liquidi atomizzatori box tante dalla robina andare a vedere allora dalla tabella del svapo è tutto se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare ciao